Può capitare e allora in quel caso quando fai la visita di controllo a 6 mesi vediamo anche queste cose. Controlliamo che non ci siano cose che controlliamo poi quando tornate. Facciamo l'attac e vediamo come sta l'osso attorno agli impianti. Controlliamo la protesi, prima di tutto se è pulita. Questo già lo facciamo con i provvisori. Se è molto sporca facciamo le foto. Perché le foto poi servono per istruire il paziente. Il paziente o i pazienti, senza mettere nome e cognome lì di chi è la foto, però farvi vedere quello che può essere un problema vi mette in guardia. Poi l'altra cosa vediamo che non ci siano incrinature, rotture sulle protesi. Verifichiamo i fori, dove ci sono i fori di avvitamento della protesi che non ci siano rotture vicine ai fori. Dopodiché guardiamo i denti e vediamo come si sono consumati i denti. Se si sono consumati molto, significa che quella è una bocca che è molto slegata. Non vuol dire che è male. Se la protesi è molto consumata non è male. Significa semplicemente che l'articolazione è più slegata rispetto magari a un'altra persona che ha un'articolazione più legata, dove i denti strisciano meno perché ha dei movimenti più complessi, non più semplici come quelli del ruminante. Allora è quello che mi ha fatto il baio, però io non ho buxismo e gli ho chiesto. Dipende da qua, dipende dall'articolazione e dipende soprattutto dal problema che un paziente ha avuto prima di perdere i denti. Se io ho un paziente per esempio che ha tutti i denti, supponiamo che io faccio un incidente stradale e perdo dall'oggi al domani i denti, quando metto i denti artificiali questi devono essere più legati perché io ho una memoria, l'articolazione è una memoria di una bocca ben occlusa, con degli incastri precisi. Quando invece il paziente ha la piorrea e perde in vent'anni i denti, la bocca inizia a perdere gli incastri, inizia a slegarsi, a compensare, allora i muscoli iniziano, il cervello li trova una posizione di stabilità, iniziano a consumarsi ancora tutti i denti, bruxismo ha tutti i denti consumati, a bocca quella di un ruminante, se li metti i denti definitivi che hanno degli incastri precisi, il paziente rompe tutto, perché c'è una memoria, l'articolazione, la muscolatura, e anche i movimenti che faceva che portano a sbattere l'aereo contro la montagna, cioè i denti di su, di giù, allora gli è meglio, li vedi, queste superfici le vedi già sui provvisori, quando voi tornate dopo sei mesi con i provvisori noi andiamo a vedere, il laboratorio vede come sono queste protesi e sceglie l'anatomia da dare ai denti, che può essere più o meno alta, collina, pianura, montagna, se proprio una bocca che non ha avuto problemi durante i provvisori, più delle volte può capitare anche che il paziente rompe i provvisori, l'ideale è lasciare il paziente con i denti rotti, così lo traumatizzi il paziente, quando poi c'è i definitivi non rompe i definitivi, quando tu l'aggiusti e gli dici vabbè poteva capitare, aggiustiamo tutto, quello poi rompe di nuovo, invece lo lasci tre mesi con i denti rotti, fa attenzione poi dopo quei definitivi a non mangiare i cibi, quelli che possono rompere i denti, come per i cibi che ho il sale grosso che può avere pietre dentro, ho i cereali sfusi, i legumi possono avere pietre, è meglio comprarli in scatola i legumi invece che sfusi, possono avere sorprese dentro che poi rompi i denti, non volutamente chiaramente perché è capitato un cigno nero che ti ha rotto la protesi.